Tragedia Mestre dove una donna di 37 anni è morta dopo essere stata colpita da un malore mentre stava camminando per recarsi ad un colloquio di lavoro. La prima ipotesi è che sia stata colpita da un infarto. I fatti sono avvenuti intorno alle 15.30 di giovedì 4 marzo in via Laurana. Nadia sbrogiò, questo è il nome della vittima, stava attraversando la strada a piedi per recarsi ad incontrare delle persone per un eventuale nuovo impiego. All'improvviso si è accasciata sull'asfalto tra gli occhi increduli di passanti e automobilisti che hanno subito lanciato l'allarme ai soccorsi. Arrivati sul posto i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarla ma per la donna, madre di due figli, non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Grazie a tutti.